Eccomi, ciao ragazzi! Allora, stasera vi ricordo che ci sarà la diretta live sul mio canale ufficiale YouTube per tutti coloro che sono abbonati al canale a livello alchimia ed esoterismo. Spendo due minuti per farvi capire di che cosa si parlerà. Si parlerà della filosofia marziale, delle teorie, degli esercizi che sono stati strutturati per far sì che l'essere umano evolva in modo consapevole. Quindi non sono soltanto esercizi, non parlerò soltanto della filosofia e degli esercizi atti alla difesa personale ma più che altro sono concetti esoterici, quindi un po' nascosti che permettono di avere più consapevolezza per quanto riguarda il cammino che ognuno di noi fa. Sarà una diretta molto molto interessante, avete la possibilità di farvi tutte le domande che volete quindi ci vediamo stasera sul mio canale YouTube qua comunque nell'info box vi metterò sia il link per abbonarvi, per chi non è abbonato sia il link diretto proprio alla live la live sarà stasera alle 21 dalle 21 alle 22, 22.30 vediamo, sicuramente si farà anche un po' più tardi se non vi siete iscritti ancora alle domande scrivetevi tutti coloro che comunque seguono già gli altri video in abbonamento niente, vi aspetto stasera ciao ragazzi stasera alle 21, buona giornata